Da pochi minuti abbiamo approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2017. Volevo rassicurare, oltre al Consiglio Comunale, anche l'intera città che i conti del Comune sono in ordine. Siamo riusciti a rispettare tutti quelli che sono i parametri economici e finanziari di bilancio. Abbiamo raggiunto per l'ennesima volta l'obiettivo di finanza pubblica e quindi l'ex patto di stabilità e abbiamo chiuso un rendiconto finanziario con un avanzo di amministrazione superiore a 40 milioni di euro. Ritengo che nonostante le difficoltà dovute alle situazioni di criticità di liquidità e quindi alle difficoltà nella riscossione dei tributi, possiamo sicuramente dire di avere lasciato una situazione economica e finanziaria sotto controllo. Dico questo perché è vero che ci sono delle difficoltà per quanto riguarda alcuni pagamenti è frutto dei cittadini che magari non tutti pagano i tributi comunali, è frutto soprattutto anche dei ritardi nei trasferimenti erariali e quindi regionali e nazionali, ma è pur vero che in questi anni abbiamo fatto un ottimo lavoro di ripulitura del bilancio, abbiamo eliminato ed estinto tutte quelle che sono le passività pregresse, non ci sono passività latenti, non ci sono passività nascoste. Volevo soltanto ricordare per dirne una su tutte che in questi dieci anni di amministrazione cristaldi sono stati pagati più di 30 milioni di euro tra quota capitale e quota interessi per muti che sono stati ereditati dalle precedenti amministrazioni, senza che contro e a fronte di questi muti ci siano stati degli investimenti proprio perché muti e debiti pregressi e quindi provenienti dalle vecchie amministrazioni. Dico questo perché abbiamo sicuramente, dobbiamo migliorare sotto l'aspetto di quello che è la riscossione dei tributi, sotto l'aspetto di quello che sono le risorse disponibili per far fronte alle imprese, ma abbiamo una situazione sana da questo punto di vista perché abbiamo soltanto quei debiti che riguardano la competenza 2018 e che sicuramente con l'ingente importo dei residui attivi che sono stati rideterminati e con tutte le azioni che stiamo mettendo in campo per la riscossione dei tributi sicuramente la situazione potrà soltanto migliorare. Per cui volevo rassicurare il Consiglio Comunale della Città abbiamo fatto un ottimo lavoro e quindi confermare che i conti del Comune sono in ordine e sicuramente la prossima amministrazione avrà gli strumenti, i doni per poter programmare e lavorare.